Michele Sabatini, il direttore del convegno e vicepresidente nazionale dell'AMBU. Non possiamo che essere soddisfatti, abbiamo visto tutto, la sala è piena, sono arrivati come sempre da tutta Italia, quindi l'obiettivo qua è di portare prima relatore qualificati, quindi questo è che secondo me mette in movimento tutto il sistema e quest'anno abbiamo raggiunto questi obiettivi. Poi l'obiettivo era quello di portare qui da tutta Italia la maggior parte dei colleghi e quindi secondo me siamo andati benissimo, abbiamo 400 presenze, più degli altri anni come indotto, quindi non fa che farci piacere e quindi questo ci sprone già per pensare al ventesimo. La cerimonia del premio, il baro Pollice? Il premio è andato a un'operazione della polizia locale di Rimini. Droga e spaccio? Sì, antidroga, non la faccio qui, non la metto sotto un aspetto, però ha portato a 53 arresti e questo ci fa capire che la polizia locale ha le sue professionalità per fare anche altre cose. Grazie. 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 Grazie.